Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Parliamo questa sera di una piccola e carinissima novità targata Google che riguarda uno dei miei ambiti di specialità che mi stanno molto a cuore, il ciberbullismo o cyberbullismo, in funzione della dominante della lingua italiana sulla lingua inglese che noi vogliamo andare a considerare e da questo appunto ecco che andiamo a determinare la nostra pronuncia. Questo lo condivido con voi come informazione, un'amica ottima docente di lingua straniera mi diceva appunto che il confronto dovrebbe essere per l'esattezza tra cyberbullying e ciberbullismo, volendo adottare una pronuncia che tenga conto di entrambe le lingue, ma bando alle ciance. www.google.it da oggi ci mette a disposizione un piccolo gioco simpatico per i più piccoli proprio sul ciberbullismo che si chiama Interland. È un browser game, cioè un gioco che si avvia direttamente dal nostro programma di navigazione e basta proprio fare un click per iniziare a giocare. Io sono un curiosone, ho già giocato, ho conseguito l'attestato del primo mondo da me superato in cui ho sconfitto i bulli. C'è anche, ed è carinissimo, ve lo faccio vedere dalla cartellina dei miei download, guardate un attimo eccoci qua, nella cartellina dei miei download c'è proprio il certificato che possiamo quindi far conseguire ai nostri alunni o conseguire noi insomma per raccontarlo loro. Ecco, so vivere in Interland è meglio, ho dimostrato essere gentile, l'attestato per il superamento del livello 1. Vi dicevo che è un browser game per cui si clicca sul tasto azzurro, cominciamo e poi vanno compiute delle missioni. Allora io faccio un piccolo spoiler, siccome il mondo 1 l'ho già completato, andiamo a vedere cosa succede nel mondo 2. Il regno cortese l'ho attraversato. Vedete che ho conseguito influenza positiva, ho provato e sono riuscito a respingere i guai e sono un reporter virtuoso. Clicchiamo un po' su esplora il prossimo territorio, dai giochiamo insieme. Abbiamo anche tanto di effetto sonoro? Allora cominciamo, clic, impara a distinguere il vero dal falso, dai guardiamo un attimino cosa dobbiamo fare. Vi consiglio una connessione ad internet discreta buona. Allora vedete che abbasso un pochino il volume. Ecco qua, stiamo sentendo la spiegazione del nostro gioco. Io ora clicco sulle due frecce in alto a destra per fare quello che nel gergo dei videogiochi si chiama lo skip. Cioè ho mandato via la presentazione per giocare. Eccoci qua, domanda 1 su 10. Vediamo un po' clic su gioca. Fiume della realtà. Allora ricevi una email con un titolo buffo che è chiaramente una truffa. Allora io mi muovo con le quattro frecce. Allora la elimini e basta. Se no, eviti di seguire i link e segni l'email come spam. Lei inoltre i tuoi amici avvisandoli di non fare clic da nessuna parte. Urca. Allora l'inoltro no, lo andiamo a bandire. Eviti di seguire i link senza dubbio e segni l'email come spam. Sì, direi proprio di sì. Infatti siamo scaccia imbroglioni. 30 punti conseguiti. Ora, pensa in fretta. 15 secondi. Il famoso principio della gamification americana. L'idea del gioco e della gratificazione. Allora online qualcuno ti fa delle domande che ti mettono a disagio. Clicca su gioca. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora che si fa? Quattro frecce che in questo caso provoci. Cerchi di rispondere come puoi e chiudi la conversazione. Urca, ignori quella persona. Urca, fai una foto della versione, smetti di chattare o dici ad un adulto e qui ti fidi. Sì, dai. E più 30 anche in questo caso perché c'è il bel messaggio per i piccoli di confidarsi sempre con un fratello grande, con un genitore, con un insegnante di fiducia. Noi siamo apposta accanto ai ragazzi per ascoltare. Ora, insomma, il gioco vedete che va avanti. Con un po' di rammarico vi dico la verità e sono tornato cambiando scheda qui perché a questo punto non voglio spoilerare l'intero gioco ma mi è piaciuta molto l'idea di Google di rendere il bullismo un nemico, insomma questo bullo giallo brutto, da sconfiggere con la gentilezza. Perché ricordiamolo sempre, diciamolo ai nostri ragazzi, le parole hanno un peso e come ha scritto su un bigliettino Carolina Picchio, la giovane, ahimè, una delle vittime più note di ciberbullismo, ecco lei ha riportato su un biglietto una frase con cui mi congedo da voi e che racconteremo e raccontiamo ai ragazzi. Le parole fanno più male delle botte ed in effetti è a questo principio che noi ci dobbiamo attenere. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e vi ricordo che da www.andreacartotto.education si può scaricare ovviamente gratuitamente per tutte le scuole d'Italia il Galateo di Mister Internet per parlare ai ragazzi dai più piccoli ai più grandi di netichette di buoni comportamenti in rete.